buonasera anche oggi vogliamo parlarvi di un prodotto rivoluzionario qui con noi a presentarlo c'è il suo creatore e il signor serafino buonasera serafino un pastore marchigiano da come possiamo vincere insomma dal suo vestiario signor serafino è un imprenditore un broker di wall street maggio serafino ha inventato un rivoluzionario approccio al fitness ci vuol dire di più signor serafino io ho fatto esporte fin da quando ero piccoli sempre prego la regia di mandare le foto del signor serafino durante il ventennio adesso lui ha cinque anni già insomma praticava atletica leggera era un fascio ma era un giovane balilla che problema poi crescendo però insomma purtroppo ecco il lavoro l'ho allontanato dalla pratica sportiva eh sì dopo si è diventato grande e sono dovuto andare a faticare sono andato a badare le pecore ho dovuto lasci andare però mi ha dispiaciuto mi ha dispiaciuto un bel po' eh sì però necessità fa virtù perché il signor serafino pascolando con le sue pecore ha avuto una brillante intuizione un rivoluzionario modello di fitness se uno non c'è niente di meglio si deve ingegnare io mi sono ingegnato ed eccolo qua prego la regia di inquadrare ginnastica pastorale 150 esercizi utilizzando uno vino puoi allenare tutto il corpo no poi certo con la pecora ci alleni tutto il corpo dai piedi ai capelli pensavo se riesco a passare i contadini le pecore vabbè comunque con tutto rispetto parlando signor c'è mo non mi pare che è un bronzo di viace cioè tutto c'è se mantiene bene però oh qui è questa roccia vedi qui c'è può segretare il pecore c'è può segretare eh me coglioni tacci tu wow come si chiama sta cosa ginnastica pastorale mazza complimenti maglia del crossfit vabbè grazie grazie a tutti buona serata la prossima puntata riederci grazie a tutti 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 grazie a tutti